Una cena di beneficenza per la mensa alla pira. Venerdì 19 luglio, nei giardini della Passerella, verrà apparecchiato per 200 persone. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Quelli di Piazza Ciardi, in collaborazione con gli operatori del progetto NOI e il patrocinio del Comune di Prato, che ha anche risolto alcune criticità all'interno dei giardini. Questi spazi sono tornati a vivere e c'è un grande ringraziamento da parte dell'amministrazione che ha creduto insieme a loro nell'uso di questi spazi, nella possibilità di fruirli tranquillamente. L'amministrazione ha cercato di risolvere tutte le problematiche legate alla gestione e diciamo che c'è uno scambio quasi quotidiano insieme agli attuali gestori proprio per far sì che tutte le problematiche legate alla pulizia, il ritiro dei rifiuti, la pulizia dei bagni, insomma tutte le modalità che rendono questi spazi fruibili da parte di tutta la cittadinanza. E siamo veramente contenti di questa collaborazione che è nata insieme a queste associazioni e io penso che questo sia il modo di lavorare anche su tanti altri spazi. L'appuntamento è alle 20.30 con un menù toscano da 15 euro. È nata per caso parlando con i ragazzi del progetto NOI, la serata di apertura del giardino della Passarella e parlando con loro è nata la volontà di fare questa cena di beneficenza per la Pira. Una cena per i fragili, io le definisco così perché poi questa è fragilità che purtroppo coinvolgono vari tipi di persone e tipologie, però possono coinvolgere tutti. Quindi sarebbe bello vedere una partecipazione veramente ampia a questa cena. Grazie.